Anna nel periodo della quarantena ha aiutato una persona a scrivere questo libro la misura della speranza e quando questa persona mi ha contattato mi fa io voglio scrivere un libro e non so da che parte iniziale bene sei nel posto giusto gli ho detto ah sì dici davvero sì sì una persona apposta per te che ti aiuterà a scrivere il tuo libro io pensavo a Anna no? e lei non sapeva il tuo libro sì questa signora vive in Germania fa la porchiera e scrive una storia vera infatti poi vi racconto in breve in pratica lei è una porchiera appunto che fin da bambina ha un dono e questo dono gli permette di sognare le anime dei differenti e di comunicare con loro quindi lei durante i suoi anni di attività ha conosciuto questa persona che poi è un po' la protagonista del libro che si chiama Angela e Angela si sposa e decide di avere un figlio nel frattempo le muore il padre insomma avviene un miracolo perché Giussi quella che racconta appunto il libro inizia a sognare il papà di Angela e quindi la misura della speranza è questo lei ci mette sette anni per arrivare a questo miracolo e nella storia ci sono tutte le volte cioè tutti i sogni che lei ha fatto in cui ha sognato Giovanni che si chiama Giovanni e lui non vi voglio raccontare proprio la insomma perché è vero se poi volete comprarlo però la cosa bella è che Giussi ci ha raccontato io ho visto tanti coach perché prima di venire da Carlo ne ho voluti sentire diversi no? però poi alla fine Giovanni, lei continua sognando è come se mi desse continuamente nei messaggi mi ha detto che doveva essere lui quindi dovevo scegliere Carlo dovevo scegliere Carlo e c'era un motivo lei ancora oggi mi ringrazia perché mi dice che sono riuscita a capire quello che lei capiva a sentire quello che lei sentiva e a trasformarlo poi sulla carta grazie grazie grazie